Alba e tramonto Ci sarà domani? Commento L'alba e il tramonto di domani già esistono nell'eterno presente perché tu li devi sentire, cioè vivere. Esiste anche lo ieri che tu hai già sentito, cioè vissuto. Il tuo ieri continua ad esistere nell'eterno presente per chi lo dovrà sentire, cioè vivere, dopo di te.